Potete scassare tutto, eh? Non lo fa da dentro perché mi ne va a torsci. In questo modo abbiamo Pagno e Roby di Ceglia. Facciamoli un pozzo di applauso. Senti, senti, papaya. Benvenuti in un sábado nel primo pasto di Italia. Alto che scopro il colo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.